NBA Lebron James inclina l'asse terrestre, l'ali OOP in controtempo con una mano sola e disumano, video, prestazione devastante di Lebron James contro gli Utah Jets, il prescelto firma una tripla doppia e mette a segno un ali OOP clamoroso nella notte di ieri, davanti al pubblico amico della Quicken Loans Arena, Lebron James ha messo a segno una prestazione devastante. Il talento dei Cleveland Cavaliers ha firmato la sua sessantesima tripla doppia della carriera, annichilendo gli Utah Jets con 29 punti, 10 assist e 11 rimbalzi. Il talento di Akron ha scavalcato l'arriber diventato il sesto giocatore di sempre nella classifica delle triple doppie segnate in carriera. Una giocata in particolare fotografa la prestazione dominante del numero 23 dei Cavs, l'ali OOP in controtempo, segnato con una mano sola allo scadere dell'un grado quarto e qualcosa di incredibile.